Sono siciliani i campioni del mondo della pizza a quattro mani. Si è conclusa a Rimini un'edizione senza precedenti di Pizza Senza Frontiere World Pizza Games. L'agguerrito team della Federazione Italiana Pizzaioli, presieduto da Giuseppe Santoro, era composto da pluridecorati pizzaioli Corrado Bombaci di Avola, ma residente a Santa Teresa di Riva, Natale Finocchio, anche lui di Santa Teresa, Massimo Sollenni, Sant'Alessio Siculo e Gaston Conti Ferraro di Giardini Naxos, già noto perché vincitore l'anno scorso all'evento di Rimini. La coppia, composta da Conti Ferraro e Bombaci, ha presentato ai giudici una pizza denominata Caronte che si è aggiudicata il gradino più alto del podio. Hanno coordinato la trasferta a Rimini le rappresentanti di FIP, Roberta Rinci e Giada Santoro. Nella città palcoscenico dell'evento si sono trovati circa 700 concorrenti che si sono esibiti in una guerrita sequenza di gare, dal freestyle alla pizza in pala e ancora la napoletana contemporanea, pizza dessert, gare di velocità e tanto altro ancora. Alla manifestazione hanno partecipato team di diverse regioni, sempre appartenenti alla Federazione Italiana Pizzaioli, sia nazionale che internazionale. Essendo soci Slow Food, ha dichiarato il presidente FIP Santoro, al momento in Australia per impegni di lavoro, abbiamo voluto valorizzare il territorio e ingredienti a chilometro zero, unendo con un ideale ponte gastronomico Sicilia e Calabria. Faccio i complimenti al team siciliano, la nostra attività è senza sosta, abbiamo in programma una trasferta anche a Las Vegas. Il pizzaiolo Daniel Nicotra, di lingua glossa, rappresenterà la nostra federazione a marzo al Pizza Expo, a concluso Santoro.